Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Star Trek Online questionante grossa e noi stiamo in questa battaglia contro questa entità cristallina brava guardi siamo arrivata nella vicella rumora saremo tanti contro uno ma non sarà comunque facile ah riduciamo un po' l'audio che mi stava schimpanando ok ah questa qui mi fa poi subito se non mi do la mossa non si spara e se cazzo di giro vai è fuoco è fuoco anche qua uno due tre quanto è? ancora 100% sparate a quell'altro sparate a quell'altro no devi sparare a questa dai 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 devo fare fuoco sia qui fase che qui stile non so se mi sentite ma perchè mi attacca i doliani perchè mi attacca i doliani quindi cosa attacca a questo? perchè mi attacca i doliani dai lancio questo dai gli scudi carica tutto ciò poi massime energie di fase e per cuoco dai massima potenza e poi ne abbiamo tolto per sicuro eh il grosso frammento che ho partito per contro una nave non so quale oggi punta me no si sta distanziando quindi non mi punta me per fortuna però il cristallino mi spara mi puntava il il frammento ma il cristallino mi può comunque sparare ok ecco altri doliani se voi altri pensate pensate ai doliani io penso a sparare alla vicella qua mi raccomando vabbè c'è anche un origine aperto devo ora chiuderlo vabbè com'è andato no no ora non devo sparare sennò è incazzi dai dammi distanza non si carica non è un buon segno infatti lo dicevo io se ero più vicino mi avrebbe distrutto i padrioranti sono esplosi allora fanculo non ti lascio io io me ne vado ciao ciao dai dai oh siamo oltre 10 km non mi può sparare sparo solamente da 10 km in giù sia io che nemici quindi bilanciamo gli scuri facciamoci ricaricare un po' la vita come potete vedere ho customizzato leggermente la nave ho semplicemente messo dei calcomanie sopra in poche parole tutte della virgo due della vergine semplicemente mi piacevano così ma ora sto aspettando che alla flotte ci abbiamo la ship ald tira il 5 che mi prendo la nave quella super figa eh sì posso prendere la nave super figa ho abbastanza crediti mi mancano i moduli di flotte che li trovo nel mercato il mercato ha 6 milioni di crediti venduti da altre gente ma posso pur sempre farlo senza dare soldi veri perché in teoria si deve dare soldi veri per quello ma lo trovate là anche se al momento il mio non ci avviscio neanche 6 milioni ma col tempo fare velo no aspetto mille giorni e mi piglio la nave quella si può modificare il convertimento cambia forma ma perché manco sempre il brutto non è dai 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 c'è 49% di vita ci siamo sempre vincere dai 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 alcuni già stavano distrutto non lo vedo visto esplodio è una canave te no sei troppo lontano scherzo fa lì là no mi preoccupisce anche me spero che mi faccia danno eh oh bene non mi ha fatto danno che fortuna usava insomma il taron come te facciamo dai fai fuoco 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 tutto quello che c'è miss mi ha mancato mio amore ah miss miss no ma che affo ma levo 3000 oh ma levo 8000 cazzo mi devo levare di qui assolutamente e anche alla svelta se no mi faccio fuoco fuori oh l'ho fatta sono spavvissuto anche stavolta semplicemente adesso mi da 23 punto 4 per 100 al minuto perché c'ho l'equipaggio a 37 su 150 quando l'ho a 150 su 150 c'ho l'equipaggio al completo la nave me la ripara molto più in fretta ok dai carichiamo gli scuri siamo quasi quando mi diventa verde mi ritorno all'attacco dai sopra il 50 dovrebbe tornare quasi verde anzi no forse ecco si lo dicevo sopra il 50 una quasi verde ok adesso facciamo l'attacco ok dai 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 bene guarda anche quell'altro siluino che fa un casino di danno se riesce ad arrivare ecco arrivato ok ok dai 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 io ho il 70% di vita via ho il 40% di vita non intenzione di farmi distruggere ne sto a distanza finchè non mi sono ricaricato non basta ha usato la mia stessa abilità questa qui questa qui grid support 2 che chiamo una nave a supporto no 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 stronzo ho distrutto maledetto non avevo visto che hanno arrivato maledetto una parere dai la mia vendetta sarà terrificante vai spawn dai dove sono eccolo là la mia vendetta sarà terrificante sappilo ok dai spara questo spara l'altro e via hanno 11% di vita perfetto dai fuoco fuoco mi carichiamo di scudo almeno non abbiamo avuto il che minimo danno c'è gente che sta distrutta una decina di volte in questa battaglia l'ho vista oh dio ah miss non è mancato dai 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 spara 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 qua sono morto no no spara spara bene stavolta stavolta ti ho fregato no no 15 secondi devo costarmi la vita 15 secondi mi costreranno infatti mi sa molto caro fuoco via via gas 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 no va bene via wow mi distrutta nel momento esatto in cui mi distrutta nel momento esatto in cui sono è stata vinta la partita facciamo rispawn ok andiamo a cercare il mio eccolo lì andiamo a cercare la mia roba ok questa non so neanche che cosa sia vediamo un po' che cosa ci da ah giusto flick marks o nukara marks va bene facciamo nukara marks vediamo un po' cosa otterremo non ho molto né molti crediti né molto di litio ora come ora ma a me ho customizzato bene la nave una poverina che è con tutte queste ali qui della virgo direi che sono stato distrutto solo due volte in questa battaglia quando c'è stata gente che sta distrutta una decina di volte quindi posso dire che mi sono soddisfatto e essere andato abbastanza bene quindi ciao a tutti e ci vediamo al prossimo episodio e ci vediamo al prossimo episodio